Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Oggi concludiamo i nostri faccia a faccia relativi alla Camera dei Deputati, alla competizione elettorale per i sei seggi della circoscrizione Abruzzo a Montecitorio con i rappresentanti delle forze che guidano i due principali schieramenti, almeno stando ai sondaggi fin quando sono stati pubblicabili. Saluto e ringrazio il candidato della lista di Fratelli d'Italia Antonio Tavani, buonasera. Buonasera a tutti. E il candidato capolista della lista del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, buonasera anche a lei. Buonasera e grazie per questa iniziativa. Allora, iniziamo a parlare di questa campagna elettorale, voi avete percorso, ma insomma non siete nuovi alle campagne elettorali, chilometri e chilometri, stavolta non soltanto nei collegi provinciali di appartenenza, di radicamento territoriale, ma un po' su tutto l'Abruzzo. Intanto vi chiedo in questi giorni di campagna elettorale che Abruzzo avete incontrato e quali sono le domande principali che sono arrivate dagli elettori, da quelli che sapete già di aver convinto, ma soprattutto dai cittadini che avete incontrato e dei quali, insomma, secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, addirittura il 40% non avrebbe alcuna intenzione di recarsi alle urne. Iniziamo con Tavani. Innanzitutto grazie a voi dell'invito e insomma in bocca al lupo a tutti quelli che stanno correndo in queste settimane e in questi giorni, in queste ultime ore. Ma non c'era bisogno di iniziare la campagna elettorale per me, per Fratelli d'Italia, per conoscere quale Abruzzo stiamo incontrando. Innanzitutto stiamo incontrando l'Abruzzo che governiamo da tre anni, ma stiamo incontrando anche l'Abruzzo che viviamo nelle nostre imprese, nei nostri negozi, nelle nostre attività professionali, nei nostri enti locali. E soprattutto stiamo incontrando l'Abruzzo governato dal governo cosiddetto dei migliori, un Abruzzo direi in grandissima difficoltà economica per i temi di interesse nazionale che purtroppo stanno investendo la parte più produttiva anche della nostra regione, ma questo è un fatto nazionale. Un Abruzzo che ci chiede risposte di tipo economico immediato. Un Abruzzo che si aspetta di vedere sbloccate alcune vicende legate ai temi infrastrutturali che comunque interessano questa regione da tantissimi anni. Un Abruzzo che si aspetta un cambio di passo a livello governativo. Io credo che stiamo incontrando però tantissimo entusiasmo per quello che riguarda Fratelli d'Italia, per quello che riguarda i temi di Fratelli d'Italia, per quello che riguarda il sogno e il bisogno di cambiamento e di risollevarsi. Siccome il nostro leader recita nel suo principale slogan, Giorgio Meloni, i temi che interessano le famiglie, le aziende, le imprese. E comunque incontriamo anche un Abruzzo che si sente ben governato dall'amministrazione Marsilio. Grazie Davani e D'Alfonso, non è la prima, forse non sarà l'ultima delle sue campagne elettorali. Dani, lei ha scelto anche peraltro la sede da cui tutto cominciò, quella sede in Piazza Unione a Pescara, per una nuova serie di incontri con i cittadini in questa campagna elettorale che è stata molto compressa, anche atipica, visto il periodo dell'anno. La regione Abruzzo è una regione che nel quadro anche di qualche altra regione del Sud comunica sofferenza dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, dal punto di vista delle ragioni del fisco, la difficoltà, in qualche caso anche l'impossibilità di adempiere all'obbligo fiscale. C'è una forte preoccupazione anche per lo scenario internazionale, le comunicazioni assurde di Putin scaricano tensione anche nella nostra pubblica opinione regionale e anche macro regionale. A fronte di questo i candidati a queste elezioni, alcuni consapevoli che potevamo fare le elezioni anche dopo, cominciando di nuovo a realizzare quella quota di programma emergenziale che tutti quanti noi sappiamo che tipo di risposte pretende e prevede. I provvedimenti riguardanti i bonus riferiti all'acquisizione energetica, i provvedimenti riguardanti l'autonomia di produzione energetica delle imprese, ma anche delle famiglie, gli enti locali. Tutto questo avrebbe richiesto un governo in carica nella pienezza delle sue funzioni per fare in modo da scavallare questa fase pazza derivante dalla guerra Russia-Ucraina e anche da quell'altra rottura di civiltà che è stata la pandemia. Le elezioni oggi ci sono e noi dobbiamo sapere che le elezioni devono mettere a confronto coloro i quali conoscono le ragioni di un territorio, le priorità, le emergenze e come anche combattere per fare in modo che le risorse sempre di più vengano utilizzate senza perdere tempo. Ci sono risorse importanti riguardanti il territorio italiano e dentro questo anche il territorio abruzzese. 227 miliardi di PNRR che in Abruzzo valgono 3 miliardi di euro richiedono procedure accelerate, classi dirigenti trovabili, classi dirigenti stanziali, classi dirigenti che non si nascondono. Io sono contento oggi di incontrare Tavani, del quale conosco anche il rapporto territoriale, però avrei avuto diritto ad incontrare in questo dibattimento, in questo confronto, il capolista al Parlamento italiano per l'Abruzzo di Fratelli d'Italia, che mi dicono essere un signore con un nome ed un cognome ed un'appartenenza ad altro suolo, siccome quando si combatterà per le ragioni di questa regione in Parlamento ci vorrà la conoscenza puntuale di tutte le emergenze di questa regione. Ecco perché io ritengo che i candidati debbano essere sempre di più legati al territorio con una storia tutta raccontabile. Ecco a proposito delle persone, perché insomma voi rappresentate un partito ma rappresentate anche le vostre storie, Tavani è stato sindaco di un comune della provincia di Chieti, quindi conosce la fatica, la vita dell'amministratore, peraltro ha la responsabilità in questi anni anche della gestione di un importante ente pubblico come l'Ater di Chieti, Luciano D'Alfonso è stato sindaco, presidente della provincia. Insomma vi chiedo anche cosa mettete in discussione anche della vostra competenza amministrativa, della vostra esperienza amministrativa nell'incontro con i cittadini, anche nella richiesta del voto, oltre alle ragioni politiche nazionali di cui naturalmente parleremo nel corso di questo confronto. Io dico anche per rispondere alla provocazione dialettica di Luciano che non fa mancare mai, noi abbiamo in competizione le liste formate in base ad una legge che il Partito Democratico ha licenziato e ha votato, e anche porta il nome di un loro valoroso esponente, una legge che azzoppa violentemente la rappresentanza dei territori. Allora, io dico che legge più antidemocratica di quella che è stata fatta in questi anni dal Partito Democratico e che Fratelli d'Italia mi risulta non abbia votato, non poteva essere fatta. Rispetto a questo anche l'Abruzzo perde un numero considerevole di suoi rappresentanti sul territorio, passando da credo 21 a 13, e in questa vicenda ho quasi la sensazione che la legge sia stata ispirata dalla voglia di non dare un governo alla nazione. Faccio rilevare un dato, Letta, Renzi, Monti, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi. Non c'è governo negli ultimi dieci anni in cui il Partito Democratico abbia partecipato con quote di maggioranza all'interno del Consiglio dei Ministri assolutamente importanti. Ecco, oggi trovare un Abruzzo in sofferenza, una recessione nazionale gravissima, forse la peggiore crisi economica che investirà l'Abruzzo in autunno dal dopoguerra ad oggi, non esonera il Partito Democratico da responsabilità a cui gli italiani chiederanno il conto domenica 25 settembre, anzi coinvolge il Partito Democratico e i suoi esponenti a pieno. La formazione delle liste, noi abbiamo, intanto il capolista si chiama Fabio Roscani, ha studiato in Abruzzo, è un ragazzo validissimo di Rieti, ha 32 anni, è una fish che Fratelli d'Italia spende in Abruzzo per rilanciare il mondo giovanile e i bisogni del mondo giovanile. Dopodiché io invito anche Luciano D'Alfonso a vedere lunedì mattina magari i risultati, a trovare molti più abruzzesi eletti dalla parte del centro-destra e di Fratelli d'Italia che non nel centro-sinistra e del Partito Democratico. D'Alfonso, c'è anche una sua impronta personale su questa campagna elettorale per il Partito Democratico, del resto lei è stato anche Presidente della Regione per una coalizione intera. Da questo punto di vista ecco che tipo di garanzia, anche alla luce del suo impegno parlamentare attuale, perché insomma la sua commissione ha lavorato fino a ieri, si sente dirare gli abruzzesi. Io non sono un'esistenza digitale, ho cominciato a fare il consigliere comunale in un piccolo paese alle falde della Maiella, mi ricordo ancora presi 186 voti di preferenza all'ettono Pello, poi ho fatto il consigliere provinciale, il consigliere regionale più eletto di tutti i partiti, pur militando in un piccolo partito allora che era il Partito Popolare, poi ho fatto il Presidente della provincia, il Sindaco, eletto due volte, ho conosciuto l'esperienza dell'accertamento causatomi dai miei avversari, sono sempre stato validato da ogni forma di controllo, poi l'esperienza di Presidente della Regione, infine in Parlamento. Questa legge elettorale andava cambiata, era una delle ragioni per cui prima di andare al voto c'era stato anche un impegno di modificare la legge elettorale per consentire il recupero dello scettro da parte dei cittadini, i voti di preferenza. Io avrei voluto vedere i cittadini abruzzesi votare uno del quale si sa che probabilmente ha studiato in qualche lenzuolo di territorio abruzzese. Noi abbiamo bisogno di persone che hanno un rapporto di sangue, di legame, di memoria, di radici, di ragioni con questa Regione, perché quando ci sarà bisogno poi di combattere servirà motivazione. Vedete, si è voluto andare al voto per incassare, secondo il meteorismo della sondaggistica elettorale, qualche punto percentuale in più, pensandolo, sapendo che forse altri potevano, secondo la sondaggistica del meteorismo elettorale, perdere qualche punto. Eravamo e siamo in una condizione di rottura di civiltà, pandemia e guerra. Se si fosse fatto così, quando l'Italia ha avuto un'altra fase drammatica, pensiamo al 1976-77, se Moro e Berlinguer non avessero fatto l'alleanza, non avremmero battuto, non avremmo risolto il problema dell'attacco terroristico, facendo leggi straordinarie e speciali. E quando fecero quell'accordo sapevano loro che perdevano voti. La stessa cosa l'ha fatto Colli in Germania, quando ha riunificato le due Germanie, con un PIL ha pagato due Germanie, ha perso le elezioni, ma lui lo ha fatto per il sistema paese, per lo Stato, per la nazione. Per la nazione, quando è in difficoltà, non si invocano le elezioni. L'Italia era su un lettino di un ortopedico, si stava curando per le grandi ferite della pandemia e della guerra, del costo dell'energia, per il lavoro, per la sofferenza fiscale, perché non abbiamo ancora un bilancio ricostituito. Il CONI, degli egoismi dei partiti, ci ha chiamato al voto e questo sistema paese, questa persona che è l'Italia, l'Italia collettiva, si è tolta dal lettino dell'ortopedico e si è dovuto mettere a correre. Qui sta la ragione di un biasimo, di una disistima, di una campagna elettorale che tra l'altro non consente neanche in reciproco trovarsi. Il tema lo avete già accennato nelle vostre precedenti risposte, è diventato sempre più un tema di emergenza internazionale nelle ultime ore. Anche nelle elezioni italiane Tavani è in discussione il tema dell'internazionale, del posizionamento del nostro paese a livello di alleanze militari e politiche, militari di difesa e politiche, nelle prossime settimane. Quello che accadrà dopo il 26 settembre, dopo lunedì, quando sapremo i risultati. Che garanzie darà il centrodestra, Giorgia Meloni e la sua coalizione? rispetto agli equilibri europei? Intanto torno un attimo sulla risposta precedente del mio amico Luciano per dirgli che Fratelli d'Italia è all'opposizione certa, chiara, trasparente, inequivocabile di questo, era all'opposizione ed è oggi all'opposizione di questo governo. Quindi le vicende che hanno riguardato sia la elezione, la nomina di questi governi, sia le vicende che hanno riguardato il mandare a casa il Premier attuale Mario Draghi, non riguardano assolutamente Fratelli d'Italia che svolge un ruolo semmai di controllo e di garanzia e ha appoggiato tutte le, ha condiviso tutte le importanti iniziative, forse il Senatore qua lo chiamo in causa, da Alfonso potrà testimoniare che non c'è stata un'opposizione ideologica ma semmai un'opposizione sui temi e sulle scelte. Si fa un gran parlare di Fratelli d'Italia e questo per chiudere la vicenda del governo, se si vota a settembre non è certamente né merito né demerito di Fratelli d'Italia che invoca le votazioni anche per, come dire, non mi sembra che nel 2018 gli italiani abbiano votato questo governo e questa composizione di governo alla quale peraltro Fratelli d'Italia, benché invitata al banchetto, non ha voluto partecipare, ma proprio per non contaminare visioni diverse, progettualità diverse, sensibilità diverse, noi non ci sentiamo di governare né con il PD né con i 5 Stelle, non l'abbiamo mai fatto e me lo faremo, è una scelta che immagino i nostri competitor rispettino e che noi vogliamo vivere nell'assoluto alveo del centro-destra, ci ho detto, Fratelli d'Italia è un partito europeista, ma da sempre, noi parliamo di Europa dei popoli dai tempi di uno dei nostri padri fondatori, Almirante e ci si viene a dire noi vogliamo uscire dall'Europa, noi crediamo che l'Europa sia una grandissima opportunità, però in Europa si va anche con la dovuta autorevolezza, si va anche a rappresentare i bisogni di una nazione che è un unicum, che è esclusiva nel contesto europeo, penso solo alla estesa delle spiagge italiane, penso solo alla estesa della colonna penninica in Italia che causa un problema di orografia e di dissesto unico in Europa, l'Italia non può essere considerata la stregua di nessun paese europeo e quando si va in Europa a rappresentare i bisogni dell'Italia ci si va con la forza dei bisogni della nazione che devono essere ovviamente calati in un contesto europeo, ma noi non possiamo avere seduti al tavolo dei competitor che pensano più ai loro mercati dell'energia, parlo per esempio dell'Olanda e non ai bisogni dell'Europa e dell'Italia, io credo che ci si vada con più autorevolezza, ci si debba andare con più coscienza di difendere anche gli interessi nazionali e credo che questo non debba essere messo dagli avversari o dai competitor come un fatto negativo, anzi è un fatto che rafforza il nostro amore, la nostra passione è per i bisogni degli italiani. D'Alfonso, Enrico Letta ha detto che Putin partecipa a queste elezioni in Italia, qual è la partita che si gioca nelle prossime ore e nelle urne e quali ripercussioni potrà avere su scala internazionale? Purtroppo è un protagonista, addirittura un leader politico del centrodestra ha osato, dico ha osato, si è permesso di dire che è meglio un Putin di due mattarella. Arrivare a sostenere questo descrive, uso un termine a tecnico ma che dà l'idea, un alcolismo che è entrato nel dibattito politico italiano, come si fa a rivendicare una specie di partecipazione emotiva, culturale, selettiva, di gradimento nei confronti di Putin dopo tutto quello che ha combinato e sta combinando nel 2022, dopo i grandi insegnamenti dei nostri papi, dei libri di storia, del bellissimo messaggio di Piero Angela che dice evitate la guerra perché non risolve uno solo dei problemi ma crea difficoltà gigantesche a tutti, questo signore invocato come un leader e come un capo che sta disseminando paura. Io non faccio parte di una comunità politica di persone che scommette sulla paura, ma che oggi la guerra in Ucraina lì fa cadere le pareti, produce sangue e qui stabilisce paura caduta della fiducia, questo è un dato di verità, tant'è che l'alto costo dell'energia mette insieme furbi e paura, astuzie, extraprofitti e paura. Dentro questa cornice io vorrei dire allo stimato Tavani perché viene dal territorio e non è un'invenzione, non è un'escamotage, non è un coniglio dei nascondimenti, viene da un territorio preciso con una storia conosciuta, ma come si fa ad essere in una coalizione che teorizza la flat tax, che toglierà diritti e coperture economiche al bilancio dello Stato dopo questa fase di disastro causato dalla pandemia della guerra. Secondo, le autonomie differenziate, che saranno coltellate alle regioni come la nostra, come la Basilicata, come la Puglia. Allora ragioniamo su un nuovo macro-regionalismo in linea col dettato dell'Europa, anche per la partita fiscale, dichiarare guerra all'Europa come fa qualcuno della coalizione di centrodestra, invocando Putin, significa privarsi della forza dell'Europa di raccogliere fiscalmente, per esempio, il dovuto dai giganti, dalla web economy. Noi non ce la faremo con IRPEF e IVA a ricostruire la struttura del bilancio dello Stato, dovremo inventare nuove formule, come per esempio i pagamenti del dovuto nei confronti dei giganti digitali. Ma non sarà l'Italia a riuscire a fare questo, perché ci vuole l'Europa con lo spazio fiscale unico europeo, così come per l'energia. Fissare un limite invalicabile deve essere l'Europa con lo spazio energetico unico europeo. Mi fanno compassione i confinisti, quelli che propongono soluzioni domestiche e domiciliari. È vero che ci sono due approcci per arrivare all'Europa, ma ci sono alcuni che contestano il sito istituzionale europeo, arrivando a ridiscutere anche il PNRR, quando quello va messo in esecuzione dai sindaci, dai presidenti di provincia, dagli amministratori territoriali e non dai politicisti che non hanno nessun contatto con la realtà. Adesso invertiamo l'ordine di risposta e quindi riparto nuovamente da D'Alfonso su un tema rispetto al quale sostanzialmente siete d'accordo, sia Partito Democratico che Fratelli d'Italia, nel dire no ad una proposta. La proposta è quella di Salvini di fare immediatamente uno scostamento di bilancio per aiutare la situazione, a superare la situazione drammatica le aziende e le famiglie con le bollette energetiche. Aveva chiesto addirittura di farlo proprio in questa fase finale della legislatura. Quindi chiedo subito al Presidente della Commissione Finanze del Senato perché non lo avete fatto in queste settimane. Intanto c'è una regola di correttezza, di educazione, starei per dire di costumatezza. Adesso siamo al voto, si aspetta l'esito elettorale, si formerà la nuova maggioranza, il nuovo governo dovrà preparare il documento contabile dello Stato e a dicembre si vaglierà la cosa da fare. Ma il fronte per l'ottenimento delle ulteriori risorse è quello europeo per avere un nuovo strumento per aiutare la domanda di energia del Paese. Poi mettiamo in esecuzione le grandi risorse in giacenza nella mano pubblica italiana, il PNRR. Ci sono ancora 50 miliardi di euro al Sud riguardante la promozione di progetti speciali, i contratti di sviluppo. Rimettiamo mano anche al recupero di competenze nelle pubbliche amministrazioni. 600 giovani del PNRR verranno stabilizzati in tutta l'Italia, una sessantina anche in Abruzzo. Lo scostamento di bilancio adesso non è la cifra di una maniera corretta di vivere il ruolo all'interno delle istituzioni. Invece dovremmo imparare a fare un'agenda nazionale che metta insieme le valutazioni di tutti, in maniera tale che ad ogni rottura nuova di civiltà procediamo tutti insieme, mettendo da parte gli interessi egoistici della forza politica Y o Y. Come sanno fare la Germania e gli Stati Uniti quando è a rischio la condizione di vita e della comunità nazionale? Ci sono alcuni partiti che propongono adesso la riforma del codice di procedura penale quando abbiamo appena fatto la riforma cartabbia con l'irristabilimento della presunzione di innocenza in capo al cittadino. Adesso il problema non è la giustizia penale, non è nessuna questione secondaria che non si chiami il diritto delle famiglie, delle imprese e dei territori di coltivare progetti di vita. energia, fiscalità, vincoli bancari che vanno sottoposti ad ulteriore moratoria perché non è vero che la rateizzazione è una soluzione, la rateizzazione poi arriva al nodo e al nodo ci deve essere la possibilità di condurre lavoro e su questo che noi diciamo siamo arrivati ad elezioni matte, vediamo l'esito, si fa la maggioranza, ciascuno nel proprio ruolo convergiamo come si fa nelle grandi tradizioni democratiche del nostro paese e anche nelle grandi tradizioni democratiche di questo sistema Europa che comunque rappresenta la guida in maniera tale che sugli obiettivi di rilievo tutti possano dare il proprio contributo. C'è da aiutare gli enti locali, le strutture scolastiche, le palestre, gli impianti sportivi hanno bisogno di una nuova copertura da parte della mano pubblica per evitare che l'Italia sia zebrata ed arlecchino. Ecco, Meloni non è d'accordo, Tavani, con l'idea di uno scolzamento immediato di bilancio ciò non vuol dire che non serva una cura da cavallo per aiutare imprese e famiglie a affrontare questo autunno terribile dal punto di vista del caro energia? Guarda, mi dovete permettere dieci secondi per fare i complimenti a Luciano D'Alfonso dal cui eloquio potrebbe quasi percepire il telespettatore che siamo della stessa parte politica cioè sembra che al governo ci siamo insieme oppure che siamo insieme all'opposizione Anche la mia domanda è una misura su cui siete d'accordo, vedrò di farvi litigare su qualcosa altro di risposte e di coalizione, fatto politico, noi abbiamo un solo programma, è questo qua in questo programma ci sono 25 punti del partito che sarà il primo della coalizione e mi sembra che su questo possa essere d'accordo anche il mio amico Luciano D'Alfonso il primo della coalizione centrodestra e molto probabilmente il primo in Italia è a questa donna, è a questa persona, è a questo partito, leader di questa coalizione che verranno affidate i bisogni di risposte concrete sul territorio e questo per la parte politica, io non rispondo di provocazioni sulla Lega, su Forza Italia su noi moderati, come non faccio, mi piacerebbe chiedere, come dire, conto delle dichiarazioni del segretario nazionale di Letta, il quale fa la competizione elettorale con tre partiti dei quali dice non disponibile a farci il governo insieme, ma sa che il governo lo farà il centrodestra, la realtà è questa, la realtà dell'Italia è questa, il 99… Non si legge tanto bene, lo legga lei. È un dato, non di Fratelli d'Italia, ma di una importante associazione datoriale, ma potrei citare, e lo cito perché ieri ci hanno invitato a un confronto, forse sarà andato anche Luciano nei giorni scorsi, ma potrei citare quelli di Confesercenti, di Coldiretti, di Confcommercio, c'è una drammatica situazione in cui domani, e non a dicembre con il documento finanziario del governo, domani 900 mila piccole imprese si apprestano ad abbassare le serrande fornendo all'Italia 3 milioni e mezzo di nuovi disoccupati, questo è il tema. E allora qual è la risposta che noi ci aspettiamo? Guardate, il governo è nel pieno esercizio delle sue funzioni per dare risposte immediate, non solo e non sempre lo scostamento di bilancio nella risposta, e noi abbiamo già detto come la pensiamo, però scusate, essere culturalmente contrari, come il PD continua ad affermare, a rinegoziare, rivisitare, variare un pezzettino del PNRR, i cui miliardi, lo ricordo anche ai telespettatori, non sono regali dell'Europa quanto una parte a fondo perduto, ma una parte più consistente è il nuovo debito, quale sarebbe il problema? Il Fratelli d'Italia lo sta chiedendo e lo chiede al governo e al PD di farlo adesso, perché va fatto adesso, di prendere… chiedo scusa poi restituisco i secondi. Vi farò una domanda ulteriore su questo. È un tema importante, di prendere un pezzo di PNRR e darlo adesso a quella parte produttiva del Paese che non è solamente chi assorbe energia, ma è anche chi la distribuisce, perché i distributori di energia sono nella stessa identica difficoltà di fornai, albergatori, parrucchieri, datori di lavoro e industriali. E naturalmente tutta la classe di lavoro che mi viene interessante. Visto che questo è il tema più importante, su questo siamo veramente d'accordo, l'avete detto sin dall'inizio, su cui siete interpellati quotidianamente in questa campagna elettorale, io ripropongo la domanda per darvi ancora più spazio, però la voglio in qualche modo fratelli d'Italia, presentano in Parlamento, perché in Parlamento si vota, lasciamo perdere per un attimo l'Europa, per aiutare le famiglie, per evitare che questa bomba economica diventi anche una bomba sociale nel prossimo inverno. D'Alfonso. Il primo a alleggerire del carico fiscale, del cosiddetto cuneo fiscale, il reddito da lavoro. Questo determina nell'immediato la liberazione di un altro stipendio nel corso dell'esercizio finanziario di un anno. Quindi il reddito da lavoro liberato dalla pressione fiscale, determina capacità di consumo da parte del lavoratore, del destinatario del reddito e poi capacità di vendita dal sistema del commercio. La seconda misura immediata, fare in modo che il costo di approvvigionamento energetico conosca un'ulteriore misura di sostegno da parte della mano pubblica e una semplificazione ulteriore per l'autoproduzione energetica. Terzo, fare in modo che una moratoria entri nel merito degli oneri e degli obblighi bancari riguardanti la piccola impresa italiana, l'artigianato e anche la realtà delle famiglie. Io sono stato vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle banche, conosco nel dettaglio quanto pesi oggi lo spostamento precedente. E lo spostamento precedente può arrivare al rispetto contrattuale da parte degli operatori economici se si fosse ripresa la ruota dell'economia. Siccome la ruota dell'economia non si è ripresa, c'è la possibilità di aumentare il termine temporale dello spostamento dell'obbligo contrattuale. Su queste tre misure noi siamo convinti che troveremo il voto di tutto il Parlamento oltre che la stima della pubblica opinione. Quanto agli obblighi bancari abbiamo già operato due anni fa e un anno fa, come sanno tutti gli operatori economici e anche i sistemi istituzionali. Voglio mettere in evidenza a Tavani che viene dal territorio, tra i pochi che viene dal territorio e me lo sento quindi interlocutore, mi dispiace oggi che non ho avuto il suo capolista al quale potevo anche dire alcune questioni di rilievo dell'Abruzzo. Lo scostamento non si deve fare, ma anche il rinvio dell'investimento del PNRR. Bisogna lavorare per avere un nuovo piano europeo di aiuto ai sistemi paesi che più stanno soffrendo, altrimenti corriamo il rischio di patire un'altra fregatura, tipo la fregatura che abbiamo patito in Abruzzo con lo spostamento degli investimenti del masterplan. Lui opera sulla montagna come operatore economico. I 22 milioni di Euro di Passo Lanciano, se fossero stati messi in cantiere, avrebbero prodotto risultato intanto alle imprese che ci lavoravano. Un milione di Euro produce 3 milioni di effetti indotti se vengono cantierate le risorse. Questo lo dico ad uno amministratore che sa di che cosa sto parlando. Tavani, tre proposte per l'autunno. Lei diventa deputato di Fratelli d'Italia. Quali sono quelle che firma? Intanto voglio dire che è tempo scaduto, non certamente per ascoltare Luciano, ma per ascoltare le tre proposte del PD perché se avessero voluto veramente dare un impulso a questa stagione di grande crisi economica che dipende anche dalla guerra, ma che è partita molto prima, è la realtà produttiva dell'Abruzzo. Sa benissimo che questa crisi viene da più lontano che non la guerra in Russia e in Ucraina, che è un fatto drammatico, sul quale peraltro Fratelli d'Italia ha avuto una posizione chiara dal primo minuto dell'attacco di Putin che mi sembra essere rappresentante di un regime comunista storico in Europa e non tanto vicino alle nostre posizioni. Ciò detto, il primo provvedimento si fa sul lavoro e il primo provvedimento si fa rivisitando quella aberrazione economica e sociale che si chiama reddito di cittadinanza. Spendiamo 9 miliardi di Euro all'anno per insegnare ai nostri figli che si può restare a casa ad attendere la ricarica di un bancomat. Esmitizziamo pure un'altra delegittimazione che oggi avviene sulle vicende di Fratelli d'Italia e di Giorgio Meloni. Nessuno di noi, almeno mi si riconosca questo, è lontano dagli ultimi, anzi, gli ultimi sono nella nostra agenda al primo posto. Gli ultimi però vanno divisi dai 18 anni, dai 25 anni, dai 30 anni, dai 40 anni in piena e robusta Costituzione che sono immediatamente disponibili al mercato del lavoro. Cominciamo a dividere i disabili, gli ultimi, gli anziani, quelli che percepiscono la pensione sociale che vale la metà del reddito di cittadinanza, da quelli che invece possono lavorare. Prendiamo queste risorse, mettiamole nelle tasche delle imprese che assumono, perciò noi diciamo più assumi meno paghi. Il cuneo fiscale che è il dramma vero del conflitto sociale tra datore di lavoro e lavoratori, perché parliamoci chiaro, un datore di lavoro immagina che un suo dipendente costi troppo, il suo dipendente quando si confronta con il suo dottore di lavoro pensa invece che il suo netto in busta sia veramente poco dignitoso. Tutto il resto va nelle tasche dello Stato e si chiama cuneo fiscale. 0,5, 1%, 2% facciamo ridere, ci vogliono interventi forti e questo è il primo. Il secondo, l'energia, scusate, è il fisco. Non ho capito prima dall'intervento di Luciano cosa pensa rispetto alla pace fiscale, perché mi ha detto, diceva ai telespettatori che non era come dire che la moratoria, per esempio, dei milioni di cartelli esattoriali che si stanno abbattendo su non solo famiglie, ma anche imprese, non sia una manovra sufficiente. Infatti non lo penso nemmeno io, però se parli di pace fiscale sembra che stai dicendo un'aberrazione. E poi la terza rivoluzione, e chiedo scusa, il terzo provvedimento è sulla pubblica amministrazione. Guardate che la vera rivoluzione va fatta negli uffici pubblici, va fatta smontando una burocrazia che nasconde dietro ogni scrivania pubblica un pezzo di potere. Parliamo di energia, chiudo, per allacciare un impianto fotovoltaico in Italia alla rete possono volerci anche 8, 10, 12 mesi. Questo dipende da una pubblica amministrazione della quale il buon Luciano si è occupato purtroppo in questi giorni per aumentare gli stipendi o per togliere dei tetti agli alti funzionari, che è un tema che noi di destra non rifugiamo perché il merito deve essere considerato, ma non era un tema da inserire nel decreto degli aiuti a famiglie d'impresa. Allora faccio parlare un po' di più anche Luciano D'Alfonso nel prossimo intervento, nel quale chiedo, proprio perché stavate affrontando ora anche il tema degli effetti sociali di questa situazione economica molto difficile, se il Partito Democratico teme di essere scavalcato a sinistra dal Movimento 5 Stelle in questa competizione elettorale, proprio rispetto al tema del reddito di cittadinanza che fa molta presa soprattutto nel mezzogiorno e soprattutto spiegare anche alla luce dei meccanismi elettorali perché essendo decisivi dei collegi uninominali a livello nazionale il voto per non far vincere la destra, come dice Letta, sia soltanto il voto anche da parte di elettori di sinistra da dare alla coalizione di cui voi fate parte e siete la forza principale. Allora l'Italia ha già pagato pegno rispetto a competizioni elettorali che hanno dimostrato che vince un cartello elettorale il giorno dopo l'elezione e poi non riesce a governare. Io mi auguro che presto si affronti il tema di come consentire una vittoria elettorale con una capacità di governo decidente, servirà una nuova legge elettorale, una revisione di alcuni meccanismi istituzionali, adesso però la priorità è l'economia e la vita, il progetto di vita di persone, famiglie e territori. Per quanto riguarda i rapporti con i 5 Stelle e le altre formazioni politiche assumibili in un campo progressista, dobbiamo continuare a lavorare, riconoscendo alcuni valori e alcune priorità. Per esempio l'aiuto a chi non riesce ad avere né merito né bisogno ci deve essere in un sistema evoluto, funzionante. Il reddito di cittadinanza è una risposta che va corretta, medicata, ma rispetto a chi non ce la fa né ad avere merito né a descrivere una situazione di riconosciuto bisogno perché proprio non riesce, lì la mano pubblica deve mettere in campo una forma di solidarietà attiva che produca anche inserimenti graduali nel mondo del lavoro. Gino Giugni nel 1993 concepì i contratti di formazione lavoro, contratti di accesso graduale che consentivano di prendere abilità, forza lavoro non specializzata e di introdurla nel circuito lavorativo anche in età avanzata. Su questo lavoriamo perché è una parte fondamentale del nostro vivere collettivo. Secondo, il bonus 110 è stata un'intuizione che va riconosciuta anche a coloro i quali erano estranei alla tradizione politica e l'hanno immessa. Quel bonus che ha prodotto del bene all'economia italiana adesso va corretto per quanto riguarda la quantità della copertura economica, 110 è troppo, va decennalizzato per fare in modo che non ci sia il mercato nero dei materiali, dei ponteggi, delle impalcature e va decennalizzato anche per evitare la frettolosità lavorativa. Il lavoro frettoloso in edilizia porta le morti bianche e poi coinvolgere anche il proprietario dell'abitazione nella stima delle voci economiche del capitolato, altrimenti avremo tanti cavalli donato ai quali non si guarderà nulla e si introducono anche rischi di truffe. Ma quella misura è straordinaria poiché toglie dal rischio, dalla condizione di fragilità abitazioni che noi in Italia abbiamo già visto tradursi in bare, abitazioni di famiglie che si sono trasformate in bare. Lavorare prima col 110 significa che evitiamo dopo che rinascano ogni sei anni i commissari straordinari alla Legnini, alla Errani, alla De Micheli, alla Bertolaso. Lavoriamo prima per mettere in sicurezza le nostre abitazioni, perché tra l'altro con questo si verifica anche una prima riforma fiscale italiana. La raccolta fiscale non è più solo sull'IRPEF, ma diventa sull'IVA, cioè dalla fiscalità delle persone alla fiscalità delle cose, tant'è che abbiamo avuto un 6% in più di produttività nel sistema economico italiano. Tavani, voi invece non avete il timore, anche qui gli ho chiedo, in sede di appello conclusivo in qualche modo, di essere scavalcati al centro da Calenda e possa prendere voti alla parte moderata della coalizione del centro-destra, in particolare a Forza Italia, ad altre vostre componenti. Ha preso il competitor meno preoccupante per il panorama politico nazionale, per quello che vediamo noi, per quello che vedo io. Ma io sto parlando di partiti che possono farvi perdere. Calenda può pizzicare voti, consensi al mio amico Luciano, al Partito Democratico, alla sinistra con la quale fino a qualche ora prima di presentare le liste voleva fare le liste insieme, governi insieme, insomma io credo che la confusione che regni nel mondo Calenda sia talmente tanta e tale che non può essere sicuramente un problema del centro-destra, lo sarà per il centro-sinistra. Non abbiamo timore che a vincere queste votazioni saremo noi di centro-destra, non abbiamo alcuna preoccupazione dell'esito delle votazioni, siamo però umilmente e modestamente pronti e anche responsabilizzati ad assumerci il fardello di questo dramma Italia che sta investendo il mondo reale. Io non so dove il Partito Democratico abbia visto il 6% di produttività in più in Italia, saranno i dati drogati dal post-Covid, perché ovviamente il Covid ha spostato completamente i parametri della produttività, perlomeno in gran parte dei settori, poi ci sono anche dei settori che col Covid hanno necessariamente e legittimamente aumentato i loro fatturati. La parte grande del Paese però esce dal Covid con le ossa rotte, entra invece in una crisi altresì, in una crisi economica, altrettanto con le ossa rotte, non avendosi potuto preparare dal punto di vista fisico, lo dico così, in termini sportivi. In Abruzzo ci sono, lo dico perché questo fatto deve essere chiaro e anche Letta scherza sempre, Conte scherzano sempre sul significato delle parole di Giorgio Meloni, in Abruzzo ci sono 70 mila percettori di reddito di cittadinanza. Adesso sfido una persona al quale riconosco la stessa appartenenza al territorio che lui mi ha riconosciuto e lo ringrazio, da sindaco, da consigliere comunale di un piccolo Paese come me a Presidente della Regione. Sfido a confermarmi se in Abruzzo ci sono 70 mila inabili al lavoro in età tra i 18 e i 40 anni, io credo di no. Io credo che ci sia un ricatto sociale gravissimo che viene fatto ai danni della nostra generazione di trentenni e di ventenni che deve essere smantellata e che il PD non ha avuto la forza di smantellare perché fino all'ultimo momento, anche per le vicende che investeranno questa Regione con le prossime regionali, sarebbe stato per loro più utile avere un accordo con i 5 Stelle che non mostrarsi competitor e alternativi come si mostrano. Quindi sì, probabilmente loro potrebbero essere superati a sinistra i 5 Stelle, noi non possiamo essere superati a destra da niente che non sia la nostra coalizione. Bene, allora vi lascio veramente un minuto a testa soltanto per l'ultimo appello, per i tanti elettori indecisi, perché c'erano sondaggi, si parlava del 40% appunto, perché andare a votare domenica dalle 7 alle 23? Comincio io? D'Alfonso. Ah scusi. Perché non stiamo votando per il rinnovo di un consorzio di bonifica o un distretto scolastico, la croce che si mette sul simbolo che verrà scelto poi può diventare una croce che si porterà per 5 anni. Io non sono un'esistenza digitale, ho fatto, ho messo insieme molta esperienza, ho anche studiato la materia della decisione pubblica per fare in modo che alle leggi generali e astratte possano sempre corrispondere gli interessi concreti di chi vive nel territorio, anche provvedendo a riempire il vuoto che c'è tra una legge generale e astratta, un'attività di programmazione e quella esigenza concreta che porta a quell'impresa, quella famiglia, quella cittadina, quel comune. Evitiamo di seguire valutazioni superficiali, emotive, c'è da consegnare il destino dell'Italia nelle mani degli italiani, facendo in modo che l'Italia venga aiutata dalla sede europea dove si possono produrre progetti come il PNRR che possono riaiutare il sistema paese a uscire da questa crisi insopportabile. Non ci sono semplificazioni, non ci sono paure che cavalcate donano un futuro migliore, c'è da scegliere la forza politica che è capace di essere, infrastruttura di razionalità e di ragionamento, il PD questo mette sul tavolo. Grazie, davanti anche a lei un minuto. Intanto vorrei ricordare che questa legge elettorale ha un solo grande pezzo positivo che è la semplicità dell'espressione del voto, dobbiamo ricordarlo anche ai telespettatori che intanto si vota anche qui dramma, solo domenica, però si vota in maniera semplicissima e quindi noi chiediamo di tracciare, tracciando una croce, quindi quello che chiediamo noi è di tracciare una croce su Fratelli d'Italia e che croce è quella sulla scheda rosa e sulla scheda gialla di Fratelli d'Italia? Non è un voto di paura, mi dispiace dover contraddire nuovamente il Partito Democratico perché se no altrimenti rischiamo di delegittimare anche la forza, la dignità delle proposte politiche che il Fratelli d'Italia ha racchiuso in un programma vastissimo, partecipato, che ha degli esponenti candidati di livello nazionale in tutte le sue liste e che rappresenterà una proposta davvero alternativa a quella del PD al governo, è un voto di veramente per risollevare l'Italia, perché si parte da un dato di fatto da una grande presa di coscienza di un momento drammatico che l'Italia vive e sta vivendo, in cui si tuffa dopo domani mattina, non si tuffa quando si approverà il bilancio nella bicamerale governativa del nuovo governo che sarà fatto, Luciano D'Alfonso lo sa, non prima di un mese o un mese e mezzo, l'Italia ha bisogno di risposte immediate, queste risposte possono e secondo me devono essere affidate a un partito che non ha mai governato negli ultimi dieci anni, un partito che ha un programma pronto per governare, un leader forte, ben voluto, la cui consenso va ben oltre quello del suo partito e io credo che abbiamo avuto governi non eletti in questi anni e questa volta i cittadini italiani potranno dotarsi e potranno premiarsi con un governo democraticamente eletto. Grazie a Tavani, grazie ad Alfonso, alle 22.30 torneremo in studio per il faccia a faccia relativo al Senato. Arrivederci a più tardi con le nostre tribune elettorali.